Mattinata ad alta tensione nell'ufficio postale di Tombolo, un uomo di 33 anni di cittadella ha cominciato ad urlare e minacciare i dipendenti costretti a chiamare i carabinieri per allontanarlo. Il 33enne si era presentato all'ufficio postale di Tombolo qualche minuto prima dell'apertura, era visibilmente agitato e pretendeva di accedere al servizio. Una volta entrato ha cominciato subito ad offendere e minacciare il personale che stava cercando la sua raccomandata ingiacenza. I dipendenti, visto che l'uomo non si calmava, hanno chiamato i carabinieri. Anche davanti ai militari il 33enne ha dato in escandescenza e per questo è stato denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.